Esclusivo. Rivelazione shock del giornalista a microfoni spenti sul famoso club. Il giornalista fa una rivelazione scioccante sul famoso club a microfoni spenti, ma qualcuno lo ascolta a sua insaputa. Rimani fino all'ultimo per non perderti questa clamorosa notizia. Questa squadra sta attraversando una stagione sorprendente e c'è qualcosa di veramente speciale nell'aria. È straordinario vedere come questo club sta tornando alla grande in pista sotto la guida del tanto criticato allenatore. Ma prima di tornare al giornalista, ti consigliamo di iscriverti al nostro canale, attivare la campanella e mettere mi piace al video per non perderti nessuna calcio news. Enzo Bucchioni, storico giornalista calcistico fiorentino convinto che i microfoni fossero spenti, si lascia scappare una clamorosa affermazione sul club. Infatti dice «Siamo determinati e stiamo ottenendo vittorie impressionanti e nessuna squadra di questo campionato riuscirà a starci avanti». Le sfide contro Lazio e Milan ne sono la conferma, in quanto hanno dimostrato al mondo intero che siamo gli unici a gareggiare per il titolo. Senza distrazioni europee, la nostra concentrazione è totale su ogni partita. Abbiamo gli attaccanti più forti del campionato, il nostro centrocampo è un muro invalicabile e la nostra difesa è più forte che mai. Rimarremo di certo in testa e saremo cattivissimi su ogni errore commesso dai nostri avversari. Il famoso giornalista sta parlando proprio della Juve. Ma come? La sua fede non era verso un'altra squadra? Perché questo cambio di rotta verso questo club? E tu cosa ne pensi? La Juventus sta davvero vivendo un ritorno al calcio gioioso e coinvolgente, grazie al talento di Max Allegri? E' davvero l'unica favorita a vincere il campionato di Serie A? Scrivi la tua nei commenti!